Il Vicenza supera l'Avellino per 2-1, la Carrarese ferma sul pari il Benevento. Alla luce dei risultati dell'andata, la finale dei play-off di Serie C sarà Carrarese-Vicenza. Delle semifinali di ritorno combattute anche molto nervose, con tre cartellini rossi in totale. Il rammarico degli Irpini è per la gara del Partenio Lombardi, con tante occasioni sprecate nel finale e due legni colpiti, quello dei Sanniti e per l'espulsione d'Italia, autore del gol del vantaggio, che ha cambiato l'inerzia di una gara che sembrava ormai in pugno. Chi accederà alla Serie B tra Vicenza e Carrarese si deciderà negli appuntamenti della doppia finale, fissati il 5 giugno in Veneto e il 9 giugno in Toscana. Per la terza stagione consecutiva, quindi, sarà una terza classificata a conquistare la promozione, in questo caso del girone A o del girone B, sulla scia di quanto già accaduto col Palermo nel 2022 e con il Lecco nel 2023.